Amici sportivi ben ritrovati, gli highlights di questa settimana sono gentilmente offerti da Trivellato Spa, concessionario ufficiale Mercedes-Benz per le province di Vicenza, Fadova, Erovigo e L'Uvest. A sede a Mazzano, Brescia, in ghiari Enrico Mattei 7F. Azienda specializzata nel settore di fluidi lubrificanti per macchinari, industriali, fluidi per lavorazioni meccaniche, oli integrali ed emulsioni, grassi industriali, detergenti, prodotti chimici di contenuto tecnologico elevato. Andiamo a vedere insieme le immagini del match. Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!